Siamo qui per lanciare la nuova linea Millage che è stata creata per celebrare il cinquantesimo anniversario dalla fundazione della marca. Abbiamo pensato ad un restyling dei due prodotti preesistenti, il Doc Previso Extra Dry e i DOCG, con dei nuovi colori per creare un'empatia in particolare con i millennials. Perché è fresco, è giovane, è colorato, ha tutta questa energia. Abbiamo aggiunto due prodotti alla gamma, che sono il Doc Previso nella versione Brut e un Pinot Rosé, che è fatto con uve 100% Pinot Nero. Abbiamo pensato di creare una personalità dietro ognuna delle bottiglie, laddove il Extra Dry Doc Previso e il Brut, sempre Doc Previso, sono dedicati ad un pubblico più fresco, più giovanile. Pensiamo ad un consumo durante i parti estivi, in spiaggia, con abbinamenti di pesce, di snack giocanti. Il DOCG ha una personalità più raffinata ed elegante e quindi lo pensiamo anche ad un pubblico un pochino più grande rispetto ai millennial. E il Pinot Rosé ha una personalità più eccentrica. Millage, che è il nome del marchio, rappresenta le mille bollicine di Perlage. Quindi pensiamo proprio al rumore, quando viene versato il vino nel bicchiere, delle bollicine. Il claim principale della nuova linea, infatti, è It Sounds Like Bubbles. I'll give you pleasure, I'll give you pleasure. I'll give you pleasure. I'll give you pleasure.